Siamo dietro le quinte di Sanremo in compagnia di Mattia Briga, 30 anni quest'anno è un'importante, ieri reduce dal debutto, è iniziato insomma così con un piccolo fuori programma però è andata liscia ed è finito anche con un bel inchino. Ver, com'è andata? È un qualcosa che desideravo forsemente regalare a Patti come omaggio, come ringraziamento per avermi portato qui e vedere i suoi occhi raggianti pieni di felicità in quel momento ha reso il mio cuore veramente pieno di gioia. Mi ha fatto battere fortissimo. Il rumore dei sogni, il prossimo sogno di Mattia? Sicuramente ne ho tanti ma mi sono mosso ultimamente più sulla sfera professionale che personale quindi mi auguro di mettere a posto delle cose a livello di vita privata. Per iluminarmi il cuore Per iluminarmi il cuore